Oggi, fratelli e sorelle, voglio parlarvi della correlazione che vediamo, che possiamo vedere e imparare dalle scritture, la correlazione tra le infermità e il peccato, perché alcune volte sono collegate, però altre volte no. Quindi bisogna imparare a discernere le cose, sia per quanto riguarda l'aspetto personale, sia per quanto riguarda anche quando si è vicini a un fratello o a una sorella che soffrono, che stanno passando un'infermità, una malattia, bisogna sapere che cosa dirgli, quindi è importante. Comunque queste sono cose molto importanti, perché in tutte le chiese ci sono persone malate, quindi dobbiamo imparare sia per noi che anche per gli altri, per sapere cosa dire. Cominciamo a leggere, prendiamo il Vangelo di Giovanni al capitolo 9, andiamo all'incontro che Gesù fa con il cieco nato, quindi andiamo al capitolo 9. Capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, del versetto 1. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui peccò, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. E qui c'è un elenco di tre cose, di tre cose che indicano una correlazione alla malattia. Che cosa collega la malattia? La malattia qui il Signore ci fa sapere queste cose. Prima di tutto i discepoli gli fanno delle domande, gli fanno una domanda, ma chi peccò, lui o i suoi genitori? Perché questa domanda non è una domanda che non ha senso, anzi, è molto importante. Infatti Gesù non dice che hanno sbagliato a fare la domanda. Gesù gli dice che il cieco nato non era in quello stato di malattia né perché avevano peccato i suoi genitori e neanche perché aveva peccato lui. Ma era così perché in lui si doveva manifestare la gloria di Dio. Quindi da queste parole comprendiamo che la malattia, le infermità possono essere collegate anche al peccato che hanno commesso i padri. I padri hanno commesso dei peccati e queste si trasmettono ai figli. Un'altra correlazione la vediamo quando uno pecca. Uno pecca e la conseguenza del suo peccato sfocia in una malattia, viene colpito dalla malattia. Mentre un altro caso ancora è quello che come in questo caso Gesù dice il caso del cieco nato non era dovuto né al peccato dei padri né ai suoi peccati. Ma lui era malato affinché in lui si manifestasse la gloria di Dio. Quindi questo è un altro motivo per cui le malattie possono colpire una persona. Quindi in questo ultimo caso non è collegato al peccato. Il peccato diciamo non ha come conseguenza sempre, cioè la malattia non è una conseguenza sempre del peccato. Ma in questo caso come dice del cieco nato, in questo caso la malattia è una conseguenza della volontà di Dio, cioè che Dio vuole manifestare la sua gloria attraverso la guarigione del cieco nato. E così è avvenuto perché Gesù dopo ha guarito il cieco nato e questo è andato tutto alla gloria di Dio. Questi tre elementi uniti ad un altro perché ce n'è ancora un altro. Perché il Dio può, come ci insegna il libro di Giobbe, la testimonianza di Giobbe, ci insegna che la malattia può essere mandata da Dio anche per mettere alla prova, per mettere alla prova la costanza di una persona. Quindi oggi affronteremo appunto, parleremo di questi tre, di questi quattro scusate, quattro elementi che possiamo riferirli, possiamo riferirli alla malattia. cominciamo appunto dalla gloria di Dio. Dalla gloria di Dio abbiamo già letto qui, abbiamo già letto che il Dio trae gloria, trae gloria dalla guarigione potente che compie, dalle guarigioni potenti. Quindi il cieco nato era malato non perché la sua malattia non era dovuta al peccato. Ma ben sì, era dovuta a una volontà di Dio che doveva trarre gloria da quella malattia. E così è avvenuto. Un altro caso simile a quello del cieco nato, per cui dopo quando avvenne un evento negativo è stato poi trasformato in un evento positivo. Questo lo leggiamo in atti degli apostoli al capitolo 20. al capitolo 20 leggiamo queste parole. Capitolo 20 dal versetto 7. L'Apostolo Paolo era arrivato in Asia, era passato per la Macedonia, in Grecia e poi era tornato in Asia. E dove passava lui naturalmente ammaestrava i discepoli, i discepoli del Signore. E quando li ammaestrava i suoi discorsi duravano anche lungo, cioè duravano anche praticamente anche di notte, fino a notte fonda, forse anche la mattina, anche perché all'epoca era difficile incontrare l'Apostolo Paolo, incontrare un servitore di Dio, perché doveva spostarsi e i movimenti duravano degli anni per fare il giro del Mediterraneo. Quindi ne approfittavano per ascoltarlo tutto il tempo possibile che poteva rimanere in mezzo a loro l'Apostolo Paolo. E Lucca riporta questi fatti, capitolo 20 di Atti dal versetto 7. E nel primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, si mise a ragionar loro e prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Or nella sala di sopra, dove eravamo radunati, c'erano molte lampade e un certo giovinetto, chiamato Euttico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu preso da profondo sonno. E come Paolo tirava in lungo il suo dire, soprafatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e fu levato morto. Ma Paolo, sceso a basso, si buttò su di lui e, abbracciatolo, disse, non fate tanto strepito, perché l'anima sua è in lui. Ed essendo risalito, ruppe il pane e prese cibo. E dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, senz'altro si partì. Il ragazzo fu, poi fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Vedete qui, vedete qui, inizialmente l'accaduta, l'Apostolo Paolo stava annunziando il consiglio di Dio a tutti coloro che lo ascoltavano. C'era anche questo giovinetto, quindi erano tutti, diciamo, avvolti dalla benedizione e della presenza di Dio. Ma avvenne un fatto, un fatto che sembrerebbe apparentemente una maledizione, no? Qualcosa di negativo. questo giovinetto cadde dal terzo piano e fu levato morto. Ma Paolo disse che la sua anima era ancora in lui, insomma, si avventò su di lui e questo giovinetto risuscitò. Il Dio fu invocato, sicuramente hanno invocato il Dio, hanno cercato il Dio e Dio ha, diciamo, fatto risuscitare questo giovinetto. Qui questo evento non è stato causato, qui il peccato non c'entra, non c'è correlazione tra questo danno ed eventuali peccati e neanche si tratta di una prova della propria fede. Qui, siccome è scritto il ragazzo fu poi ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati, vedete? Quindi in questo evento negativo il Dio permise che succedesse affinché fossero consolati, non solo per la parola che Paolo aveva portato loro, ma furono consolati anche per una presenza potente che Dio aveva manifestato in mezzo a loro risuscitando un morto. Quindi potevano, il Dio era presente là, il Dio badava loro, anche se l'Apostolo Paolo sarebbe andato via, loro avrebbero avuto nel loro mezzo questo giovinetto euttico che gli avrebbe ricordato come è potente la mano di Dio, come è gloriosa alla mano di Dio quando si manifesta. Quindi ha lasciato lì il Dio una presenza, una grande testimonianza in mezzo a loro. Questo giovinetto euttico che morì, fu levato morto, ma il Dio lo risuscitò dai morti. Quindi vedete questo evento che appariva e sarà apparso inizialmente come negativo oppure dopo è stato trasformato in qualcosa, da Dio è stato trasformato in qualcosa di glorioso che ha portato gloria all'iddio vivente e vero. E questo è diciamo uno dei motivi per cui malattie o anche altri eventi funesti possono colpire qualcuno, anche tra i santi, eh, guardate bene, possono colpire perché il ceconato non era ancora credente, sicuramente ha creduto dopo che Gesù gli ha parlato e che Gesù l'ha guarito. Mentre euttico era lì, era un giovinetto in mezzo al popolo, in mezzo ai discepoli che ascoltavano Paolo, poteva anche essere un credente. Ma questo per dirvi che questo iddio può trarre gloria da opere potenti che può compiere sia verso i credenti e sia verso gli increduli, eh, non è limitato solo ai santi. Iddio quindi con certi eventi può trarre malattie o anche eventi funesti può trarre gloria al suo nome e consolare la sua chiesa, il suo popolo, mandare insomma la sua benedizione dopo. E questo è uno degli elementi. Un altro elemento che possiamo riferire alla malattia è il peccato dei padri, cioè i figli possono subire la conseguenza del peccato che compiono i padri. Vi faccio degli esempi concreti. Ad esempio noi moriamo perché i nostri padri, Adamo ed Eva, peccarono. Vedete? Quindi questo è rimasto su tutte le generazioni degli uomini. Quindi questo peccato, chiamato anche, conosciuto anche come il peccato originale, si trasmette dai primi due uomini, dal primo uomo che è vissuto sulla terra, che è stato creato da Dio, cioè Adamo e anche Eva, questo peccato si è trasmesso a tutte le generazioni che provengono da loro. E le generazioni provengono tutte da Adam ed Eva. Non ci sono generazioni fuori da Adam ed Eva. Questo per farvi capire come ciò è possibile. Un altro elemento che magari può essere anche vicino a noi, vi faccio un altro esempio, che questo è proprio così come lo stiamo dicendo, c'è una correlazione tra i peccati dei padri con i figli. Ad esempio, quando, vi faccio un esempio concreto, cioè se la mamma è malata di AIDS, ha determinate malattie, se la madre ha una determinata malattia, questa può trasmettersi al figlio che è sul grembo. Quindi nasce un bambino malato, anche lui di AIDS, a causa del peccato della madre. Quindi è comprovato, insomma, è una cosa certa. Ma leggiamo, leggiamo anche le cose che riguardano questo secondo elemento della correlazione del peccato tra dei padri che si trasmette ai figli. Uno dei comandamenti, proprio uno dei dieci comandamenti, cioè esattamente il secondo, quindi andiamo in Esodo 20, parla appunto di questo. E badate bene che i dieci comandamenti sono ancora validi per oggi, e tutti quanti, ad eccezione del sabato che non va osservato, ma bensì bisogna entrare nel riposo, non osservare più oggi sotto la grazia, non dobbiamo più osservare il giorno del riposo, ma dobbiamo entrare nel riposo, che morire in Cristo, mantenendosi fermi nella fede, allora si entra nel riposo. Dopo entrati nel riposo non c'è più fatica, non c'è più sofferenza. Quindi quel sabato è una figura di cose che dovevano avvenire quando Gesù poi è venuto e ha portato e ci ha fatto conoscere la realtà delle cose. Ma oggi dobbiamo parlare del secondo comandamento, il secondo comandamento che è conosciuto per la sua prima parte che riguarda gli idoli, ma è meno conosciuto, meno studiato, meno predicato nelle chiese, nelle chiese, la seconda parte del secondo comandamento. Noi lo leggiamo tutto. Esodo 20, versetto 4. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro perché io, l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi, come vedete, qui nel secondo comandamento è detto che Dio punisce l'iniquità dei padri sopra i figlioli. Sopra i figlioli. Uno giustamente si domanda ma sotto la grazia com'è? Sotto la grazia avviene la medesima cosa. E questo lo leggiamo, cioè quindi secondo comandamento, anche sotto la grazia, opera così come scritto. Il fatto che opera così come scritto lo leggiamo in Apocalisse, è Gesù che parla, parla a quella donna malvagia Jezebel, Apocalisse, capitolo 2, versetto 20, da qui comprendiamo che il secondo comandamento, cioè la punizione dei peccati dei padri che ricadono sui figli non è cessata, ma è rimasta ancora oggi sotto la grazia. Quindi il Dio ancora oggi opera come scritto nel secondo comandamento del Decalo. Ora leggiamo Apocalisse, capitolo 2, versetto 20, ma ho questo contro a te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni ed i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Quindi vedete qui il Dio e Gesù, qui è Gesù che parla, Gesù è risuscitato, Gesù si mostra a Giovanni, all'Apostolo Giovanni e gli dà questa rivelazione perché Apocalisse vuol dire rivelazione, gli dà questa rivelazione. In questa rivelazione ci sono dei discorsi che Gesù fa, delle lettere che vuole che vengano scritte alle sette chiese. A una di questa chiesa, la chiesa di Tiattiri, c'era appunto questa donna Jezebel che insegnava a fornicare e a fare altre cose sbagliate. E Gesù le ha dato tempo di ravvedersi ma se lei non si sarebbe ravveduta, lei anche quelli che peccavano con lei, se non si sarebbe ravveduta, sarebbe caduta, sarebbe stata colpita, sarebbe stata colpita dalla maledizione di Dio, dalla punizione divina attraverso una malattia, lei, ma non solo lei ma anche i suoi figli. Gesù dice che anche i suoi figli sarebbero stati messi a morte addirittura, capite? Quindi questo, il secondo comandamento, il secondo comandamento che dice che i peccati dei padri possono ricadere sui figli, il Dio li può far ricadere, secondo la sua volontà li può far ricadere sui figli, è valido ancora oggi sotto la grazia. E così è scritto, ma per molti è stato difficile ascoltare queste parole, anzi nelle comunità non vengono dette queste cose, però la scrittura ci insegna questo e così dobbiamo credere e così dobbiamo parlare. Però sorge qui la domanda, ma allora un credente, se ha avuto un genitore malvagio, il credente subirà le punizioni dei suoi genitori che sono stati molto malvagi? Ma naturalmente no, perché se Dio ha fatto grazia a quella persona e lo ha reso giusto, non può essere più colpito dal peccato dei padri, capite? Quindi i giusti, i santi, coloro che hanno creduto non saranno colpiti dalla maledizione dei padri. E questo lo leggiamo, andiamo a leggerlo nel profeta Ezechiele al capitolo 18. Lo spiega bene, fa tutte le casistiche. Quando spiega bene cosa accade, quando il padre è santo e il figlio è malvagio, il malvagio viene punito, non il padre che è santo. Quando è il contrario, invece il padre è malvagio e il figlio è giusto? Perché ricordatevi sempre che se il figlio è giusto è perché Dio lo rende giusto, è lui che opera nel suo cuore. Quindi se il padre è malvagio e il figlio è giusto, il Dio non punisce, non lo punisce l'uomo che è giusto. Perché il Dio fondamentalmente punisce l'uomo che pecca. Quindi se Dio vuole punire i figli, se sono piccoli, li può anche colpire. Come abbiamo detto, se la madre è malata di AIDS, è incinta, nasce un figlio malato di AIDS, è stato colpito da Dio di quella accagione del peccato della madre. Però quando riguarda i giusti, quando i figli sono giusti, diventano credenti, Dio li salva, li giustifica, è chiaro che su di loro non cadrà questo peccato. Il peccato dei padri non ricadrà sui figli. Al capitolo 18 di Ezechiele fa diversi esempi. Noi leggiamo questo. Ad esempio, capitolo 18, versetto 10, perché dal versetto 5 parla se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia. Bene. Poi al versetto 10 dice, ma se ha generato un figliolo che è un violento, che spande il sangue e fa al suo fratello qualcuna di queste cose, cose che il padre non commette affatto e mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo, opprime l'afflitto e il povero commette rapine, non rende il pegno, alza gli occhi verso gli idoli, fa delle abominazioni, presta a interesse e dà ad usura. Questo figlio vivrà egli? No, non vivrà. Egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte. Il suo sangue ricadrà su di lui. Poi al versetto 14 notate, ma ecco che questi ha generato un figliolo, il quale, avendo veduto tutti i peccati che suo padre ha commesso, vi pone mente e non fa con tali cose. Non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, non opprime alcuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame, copre di vesti l'ignudo, non fa pesare la mano sul povero, non prende interesse né usura, osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi. Questo figliolo non morrà per l'iniquità del padre, egli certamente vivrà. Suo padre, siccome è stato un oppressore, ha commesso rapine a danno del fratello e ha fatto ciò che non è bene, in mezzo al suo popolo ecco che muore per la sua iniquità. Quindi avete visto che è valido il secondo comandamento che dice che Dio può far ricadere il peccato dei padri sui figli, però se il figlio è santo, è giusto, questo riguarda in modo particolare i credenti, se i credenti, se Dio ha giustificato una persona, l'ha purificata dai peccati, ogni legame di peccato con i suoi genitori passati, con i suoi genitori sono stati cancellati, compreso il peccato originale che noi ci siamo portati dietro dalla nascita che è a cagione del peccato di Adamo e di Eva. Quindi nel momento in cui un credente nasce di nuovo, tutti i peccati vengono perdonati e ogni legame di peccato con i genitori passati viene spezzato anche questo, viene liberato, i credenti vengono liberati da tutti questi legami, da questi peccati che potevano colpirlo, che erano stati commessi dai genitori, a cominciare appunto da Adamo e Eva. Quindi quando noi siamo nati di nuovo, il nostro peccato, quello che noi abbiamo commesso e anche quello che era su di noi perché l'avevano commesso i nostri padri, anche il peccato originale di Adamo e Eva, sono stati tutti lavati, siamo stati purificati di tutti i nostri peccati. Quindi con i nostri genitori, diciamo, se erano malvagi, non subiremo nessun tipo di punizione. Quindi questo è importante sapere anche questo, perché bisogna sapere che se uno pecca il peccato, il Dio può punire i peccati dei padri anche sui figli. Però badate bene, sui santi, sui santi che hanno creduto, i peccati dei loro padri non ricadono più su di loro. Però i loro peccati rimane il fatto che se un credente vive nel peccato, commette peccati, stiamo parlando di peccati gravi, non stiamo parlando di ogni minimo peccatuccio, questo che sia chiaro. Come abbiamo letto di quella donna Jezebel che commetteva adulterio e fornicazione a cagione di questi peccati gravi, Gesù aveva minacciato di far morire i suoi figlioli. Quindi vedete, anche se era una donna credente, profetessa o quello che era, era comunque in mezzo alla chiesa lì, Gesù non fa capire che non fosse una credente, ma fa capire che era una credente peccatrice. Quindi lì la ammonisce dicendo appunto che avrebbe colpito sia lei per il suo peccato, ma anche i suoi figlioli, vedete? Avete visto, avete letto in Apocalisse 2 le parole di Gesù. Ma quelle parole di Gesù non ci devono meravigliare perché Dio aveva già parlato a Mosè con i dieci comandamenti e facevano parte del decalogo, faceva parte la punizione, i peccati dei padri che venivano puniti sopra i figlioli. Questo faceva parte già del secondo comandamento. Quindi Gesù, con quelle parole che ha pronunciato contro quella donna Jezebel, ci ha fatto capire che questo comandamento è ancora valido oggi sotto la grazia. Lo abbiamo capito anche leggendo, vi ricordate, abbiamo letto anche il passaggio di Giovanni dove si parlava del ceconato. Quando i suoi discepoli dissero a Gesù, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Gesù gli risponde, né lui ha peccato né i suoi genitori. Non li riprende, non fa capire che quella domanda era sbagliata. Anzi, rispondendo Gesù conferma che la domanda era giusta, solamente che la malattia, le infermità che erano sopra il ceconato non erano dovute né al peccato suo né al peccato dei genitori, ma era perché si doveva manifestare la gloria di Dio. Quindi anche da quel passaggio biblico dobbiamo riflettere e dire, vedi Gesù non ha detto che gli hanno fatto una domanda sbagliata. Quindi anche lì è confermato il fatto che Gesù lo conferma, anche se indirettamente, conferma che il peccato dei padri poteva in qualche modo ricadere sui figli. Ma non è sempre così, non avviene naturalmente sempre così, perché una causa, una delle cause principali per cui una persona può essere colpita dal peccato è ad esempio il commettere lui stesso il peccato. Quindi quando noi parliamo, quando sentiamo che un fratello è malato, oppure ci viene a noi una malattia, dobbiamo esaminare noi stessi, dobbiamo esaminare noi stessi per vedere che cosa c'è nella nostra vita, da che cosa è causata questa malattia. Può essere causata, come abbiamo detto, o per la gloria di Dio, ci può venire addosso una prova, una malattia, o per una gloria di Dio, come abbiamo già letto, o perché, diciamo, su una persona sono ricaduti i peccati dei padri, come abbiamo visto, come abbiamo letto, ma possono ricadere, possono essere anche dovuti, l'infermità può essere dovuta anche al peccato che lui stesso ha compiuto. E qui andiamo a leggere, torniamo al Vangelo di Giovanni e per spiegare questo, che si può essere colpiti dalle malattie a cagione del peccato che uno ha compiuto, leggiamo queste parole che Gesù rivolge al capitolo 5, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, leggiamo al versetto 14, praticamente qui c'è questo paralitico che era vicino alla vasca di Bethesda, vi ricordate questo racconto di Gesù, questo fatto che riguarda Gesù, che in questa vasca era praticamente perché era circondata da infermi, il Dio mandava un angelo a muovere l'acqua di questa vasca, di questa piscina, e il primo che vi scendeva veniva guarito di tutte le infermità. E c'era anche questo paralitico in attesa che l'acqua fosse mossa, cioè avevano questa speranza. Gesù andò lì, era pieno di infermi e si rivolse solo ad uno, almeno il racconto ci dice questo, nel capitolo 5 di Giovanni. Gesù guarì questo infermo, questo paralitico, che era malato da 38 anni, badate bene, era malato da 38 anni, era paralitico da 38 anni. Al versetto 14, leggiamo, dopo Gesù lo rincontra e gli dice queste parole. Di poi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. Vedete? Quindi queste parole ci fanno capire che questo paralitico era diventato paralitico, appunto, a cagione del suo peccato. Aveva peccato ed era stato colpito da quella malattia. Ma Gesù lo ammonisce e dice, io ti ho guarito, ecco, sei guarito. Va e non peccare più, quindi devi cessare di peccare, perché altrimenti ti accadrà di peggio. Vedete? Vedete le parole di Gesù? Voglio farvi notare che Gesù, Gesù aveva dai 30 ai 33 anni quando ho parlato qui. Quella persona, il paralitico, era infermo da 38 anni. Va bene? era infermo da 38 anni. Quindi il fatto che gli cadde addosso la malattia 38 anni prima significa che era sotto la legge. Lui aveva peccato e, secondo la legge, era stato colpito dalla malattia. Poi venne Gesù, quindi siamo sotto la grazia, Gesù lo guarisce, ma gli dice, gli dice anche, va e non peccare più che non ti accada di peggio. Quindi queste parole di Gesù confermano che se uno pecca, anche un credente vive nel peccato. Qui non parliamo di peccati minimi. Si parla sempre di peccati di una certa gravità. Capite? Perché se no non rimarrebbe nessuno in mezzo al popolo di Dio. Perché tutti noi oggi, tutti noi, tutta la Chiesa, tutti i credenti ogni giorno sbagliano qualcosa, peccano. Però una cosa è cadere nel peccato su cose minime. Altro è, non so, l'adulteria, la fornicazione, l'omosessualità, l'omicidio. Capite? Ci sono cose gravi, ci sono cose più gravi. E certi peccati vengono colpiti dalla malattia. Quindi, per tornare al discorso che vi stavo facendo, il paralitico di Bethesda è stato colpito dalla maledizione della legge perché aveva peccato. Ma Gesù lo minaccia dicendo anche sotto la grazia, fai attenzione, perché anche sotto la grazia, se tu continui a peccare, ti accadrà di peggio addirittura di quello che gli era accaduto quando era sotto la legge. Quindi, da questo punto di vista, e qui voi sapete bene che c'è una grande diatriba in mezzo alla Chiesa, che riguarda appunto il fatto che Dio possa mandare malattie sopra chi pecca. Eppure, nelle scritture, noi lo leggiamo, non solo manda malattie, ma manda terremoti, pestilenze, carestie. Il Dio punisce il peccato, ancora oggi, come lo puniva anticamente. Il Dio era e sarà sempre misericordioso, ma è anche giusto. Puniva i peccati sotto la legge e li punisce anche sotto la grazia. Non è che sotto la grazia la gente può fare quello che vuole, vivere nel peccato e non viene colpito. No, assolutamente no. A conferma di questo, a conferma di questo, leggiamo anche quanto è scritto nella prima epistola di Paolo ai Corinzi. Quindi andiamo a leggere il passaggio della cena del Signore, come viene riportata in Corinzi, come Paolo la scrive ai Corinzi. Capitolo 11 di prima Corinzi, leggiamo dal versetto 30. Praticamente Paolo ha scritto delle direttive per i credenti di Corinto, perché anche sulla sulla cena del Signore c'era qualcosa che non andava per il verso giusto, cioè non venivano fatte le cose come dovevano essere fatte. C'erano di quelli praticamente che prendevano indegnamente la cena del Signore. E ora, a proposito di questi, leggiamo. Capitolo 11, versetto 30. Per questa cagione, iniziamo a leggere dal 28, or provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Vedete? Quindi i Corinzi, i nostri fratelli di Corinto, prendevano, facevano la cena del Signore, prendevano della cena del Signore e la prendevano indegnamente. C'erano di quelli che si accostavano alla cena del Signore e ubriachi addirittura. Quindi qui la gravità non era tanto che è già grave per se stesso, l'ubriachezza. Ma si accostavano alla cena del Signore e ubriachi. Non discernevano, non discernevano, diciamo, il corpo e il sangue di Gesù nei simboli del vino e del pane. C'erano di quelli che si erano accostati alla cena del Signore indegnamente, cioè non erano degni perché? Perché vivevano nel peccato. Perché il peccato sicuramente li governava, erano governati dal peccato. Non vivevano in santità, ma sicuramente vivevano nel peccato. E questi, benché vivevano nel peccato, si sono permessi di accostarsi a prendere la cena del Signore e che cosa è successo? È successo che si sono ammalati. È sceso su di loro la punizione divina e si sono ammalati. Addirittura parecchi sono morti, dice qui, qui dice l'epistola di Paolo ai Corinzi. Parecchi sono morti. Quindi cosa ci insegna anche, oltre al fatto che comprendiamo da questi passi che Dio può punire chi pecca, punisce chi pecca, ma pure comprendiamo che quando ci accostiamo alla cena del Signore dobbiamo essere interiormente liberi, dobbiamo esaminare prima noi stessi e dopo, solo dopo aver esaminato noi stessi, sentendoci, chiedendo perdono di tutti i nostri peccati, solo dopo, quando ci sentiamo liberi dai nostri peccati, ci possiamo accostare alla cena del Signore. Ed è per questo che io ho piacere di, quando si prende la cena del Signore, che sia reso pubblico, cioè bisogna avvisare i fratelli, fratelli, badate bene che tale giorno dobbiamo prendere la cena del Signore, quindi fatevi trovare pronti. Perché? Perché ho sempre avuto questo piacere di dire ai fratelli, quando prendiamo la cena del Signore dobbiamo avvisare prima, perché bisogna prepararsi, per evitare appunto di accostarsi indegnamente alla cena del Signore. Dovremmo, ecco, questa sarebbe la via ottimale, dovremmo essere sempre pronti, giorno e notte, sempre a posto nel Signore. Però, siccome potrebbe non succedere, è meglio avvisare. Allora, se uno ha qualcosa con qualcuno, per dire deve andare a riappacificarsi, deve sistemare tutto, ecco, la cena del Signore è uno di quei punti in cui tu, se hai delle pendenze, le devi risolvere, devi chiarire, risolvere, liberarti, non rimanere legato, sennò come farai ad accostarti alla cena del Signore se c'è qualcosa che non va, no? Vi ricordate quando c'è quel passo che dice se ti presenti all'altare, porti il tuo sacrificio e ti ricordi che c'è qualcuno che ha qualcosa contro di te, no? Allora, lascia tutto lì e vai prima a riappacificarti, a sistemare ogni cosa e dopo offrirai il sacrificio. E quello è la nostra preghiera, no? Il sacrificio rappresenta anche la preghiera. Noi, come sacerdoti, offriamo a Dio il sacrificio delle nostre preghiere, no? E tanto più questo può essere valido per quanto riguarda quando ci accostiamo a Dio per prendere la cena del Signore. Insomma, sono tutte cose che ci devono far riflettere anche queste e ci spingono, e sono cose che ci spingono a riappacificarsi per forza con tutti quelli con cui abbiamo avuto qualcosa. E se si può riappacificare, perché talvolta non si può. Però per quanto dipende da noi, badate bene, sempre dobbiamo cercare di sistemare ogni cosa e di non lasciare pendenze. Ora, abbiamo parlato quindi del peccato che si è commesso, certi tipi di peccati possono causare, diciamo, possono far venire su di noi, sul credente può far venire la punizione divina. Ammettiamo adesso il caso in cui uno ha peccato, va bene, e ancora non è stato colpito dalla punizione divina. Cosa deve fare per evitarla? E la scrittura ci ammaestra anche in questo. Quindi se uno, diciamo, ha commesso dei peccati, cosa deve fare? La scrittura ci insegna, e qui dobbiamo andare alla prima epistola di Giovanni, che ce lo dice in maniera chiara. La scrittura ci dice che se uno ha peccato deve confessare il proprio peccato a Dio e gli sarà rimesso. Badate bene, è fondamentale confessare i propri peccati a Dio. Anche nella preghiera del Padre nostro, che è una preghiera da fare quotidianamente a Dio, c'è scritto rimetti a noi i nostri debiti. Quindi ogni giorno noi dobbiamo chiedere a Dio di rimetterci i nostri peccati. Naturalmente li dobbiamo anche abbandonare. Se sono peccati gravi, assolutamente li dobbiamo abbandonare immediatamente, prima che veramente il Signore si stanchi e mandi il suo giudizio su di noi, su chi sta commettendo il peccato. Ma se uno ha peccato, la scrittura dice, capitolo 1 di prima Giovanni, al versetto 9, Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi questo è importante. Se uno ha commesso qualsiasi tipo di peccato, perché gli unici peccati che sono imperdonabili sono rinnegare Cristo, che è il peccato che mena morte, e il peccato imperdonabile che è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Se uno non ha commesso questi peccati, ha commesso qualsiasi altro peccato, ecco, gli altri sono tutti perdonabili. E come bisogna fare per avere quei peccati perdonati? Bisogna confessarli a Dio, naturalmente bisogna abbandonarli, non è che io confesso l'adulterio, uno confessa il suo adulterio e poi invece continua a commettere adulterio. No, questo no. C'ha l'amante, chiede perdono a Dio che tradisce la moglie con l'amante e continua a tradirla con l'amante. È chiaro che una tale confessione di peccato non ha valore davanti a Dio, anzi, è più una presa in giro, è più un insulto a Dio che una vera confessione. Quindi, la confessione ha valore se uno si pente con tutto il cuore, si ravvede del suo peccato e lo confessa a Dio. Guardate bene che confessarla a Dio il peccato in preghiera è fondamentale, perché? Qui è scritto se, vedete questo se, la condizione, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettere, da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma questo se vuole dire che se uno non li confessa a Dio, non gli vengono perdonati. Quindi è fondamentale confessare i propri peccati a Dio, perché gli vengono perdonati. Se uno non li confessa, non gli vengono perdonati. Quindi sbagliano coloro che insegnano e dicono, vabbè, ma Gesù ha portato sulla croce tutti i nostri peccati, una volta per sempre non dobbiamo più chiedere perdono per i nostri peccati. Questo è falso, perché Gesù, quando noi siamo nati di nuovo, ci ha perdonato i peccati, tutti i peccati. Il peccato originale, i peccati che erano su di noi, dei nostri padri, i peccati che noi abbiamo commesso fino a quel momento, ci ha perdonato quelli. Ed è per questo che Gesù ha detto, che nelle preghiera quotidiana, dobbiamo dire, nella preghiera del Padre nostro, è inserito anche rimetti a noi i nostri debiti, da dire tutti i giorni, altrimenti non lo avrebbe inserita questa frase, questa richiesta, non l'avrebbe inserita Gesù in quella preghiera, se fossero stati già perdonati tutti, anche quelli futuri. Ma è per questo che c'è scritto, se confessiamo i nostri peccati, perché purtroppo anche i credenti sbagliano. I credenti non devono vivere nel peccato, però è impossibile che i credenti qualche volta non inciampino e non commettano qualche peccato. Ecco, quindi questi credenti cosa devono fare? Devono sapere che, una volta commesso il peccato, lo devono confessare a Dio e abbandonare. Confessare e devono avere questa certezza, badate bene, qualsiasi peccato di quelli che possono essere perdonati, qualsiasi peccato, sta scritto che Egli è fedele e giusto. Questa è la nostra speranza, la nostra certezza. Noi crediamo a questa parola, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di non peccare, badate bene, il nostro obiettivo principale è quello di non peccare, ma quando cadiamo, non è che tutto è perduto, abbiamo sbagliato, adesso non siamo più a posto con Dio, no. C'è scritto che Egli è fedele e giusto da rimetterci peccati e purificarci da ogni iniquità. E questa è parola di Dio. È meglio non peccare, ma se un credente pecca, sappia che c'è ancora rimedio. Il sangue di Gesù è più potente del nostro peccato. Il sangue di Gesù è inefficace per chi lo rinnega, per chi bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma tutti gli altri peccati, il sangue di Gesù è più potente, è purifica da ogni peccato. Quindi noi dobbiamo, il credente deve, una volta commesso il peccato, confessarlo a Dio, qualsiasi tipo di peccato, adulterio, fornicazione. Infatti Gesù, quando parlava con quella donna adultera, con Iezebel in Apocalisse, sta scritto che Gesù gli ha dato tempo di ravedersi. Quindi anche per quei peccati gravi c'era possibilità di ravvedimento. Taluni dicono che l'adulterio, la fornicazione, è il peccato che mena morte, ma non è assolutamente vero. Se fosse vero, Gesù non poteva dire gli ho dato tempo di ravedersi, cioè di pentirsi di quell'adulterio, di quella fornicazione che aveva commesso. Altrimenti Gesù ha sbagliato se fosse così. Capite? Quindi anche i peccati gravi come l'adulterio, la fornicazione, possono essere perdonati, però bisogna pentirsi e bisogna confessarli e bisogna confessarli a Dio. Quindi anche se abbiamo peccato, non dobbiamo temere subito la punizione divina, cioè nel senso che, certo, temere Dio se perseveriamo nel peccato, ma se abbiamo sbagliato, noi dobbiamo inginocchiarci e confessare il nostro peccato e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e quindi l'ira di Dio, la punizione di Dio non ci sovrasta più, non è più sopra sopra colui che è peccato, perché il peccato è stato lavato dal prezioso sangue di Gesù che è più potente del peccato. E queste poi rimane rimane e per quanto riguarda il collegamento con certe malattie rimane solamente ad esempio la prova la prova di Giobbe vi ricordate la prova di Giobbe di Giobbe praticamente il Signore dice queste parole Giobbe fu colpito da determinate malattie ma non erano causate da niente delle cose che abbiamo citato fino adesso non era causato dai peccati dei padri non era causato dai propri peccati ma Dio ha voluto che fosse colpito di certe malattie per metterlo alla prova per provare la sua costanza per vedere se lui avrebbe ceduto non avrebbe più avuto fede perché gli è scesa una malattia addosso quindi quando questo è importante anche questa parte perché non tutti i credenti che sono malati che noi conosciamo che sono vicini a noi o che sentiamo che si sono ammalati non tutti i credenti sono per forza di cose colpiti da una malattia cagionata dal peccato possono essere anche o per la gloria di Dio o anche perché messi alla prova quindi Dio li sta fortificando e sta facendo in modo di provare la loro costanza sì perché molti quando vengono perché ingannati dalle predicazioni di certe chiese in cui gli insegnano che un credente non verrà mai colpito dalle malattie quando viene colpito da una malattia praticamente si arrendono cioè dicono che Dio è ingiusto e ha permesso che fossero colpiti dalla malattia e quindi si traggono indietro e sì ci sono anche di quelli che non ne vogliono più sentir parlare di Dio perché si sentono traditi da Dio ma non è Dio che li ha traditi e sono loro che sono stati ammaestrati male non hanno neanche loro capito le scritture non le hanno studiate non le hanno intese come dovevano intenderle e quindi vedete con una malattia si traggono indietro infatti vi ricordate la parabola del seminatore quando dice che arrivano le persecuzioni e le prove ci sono le piantine quelle lì sul terreno roccioso che praticamente si seccano c'è venuta la prova la persecuzione si traggono indietro e rinnegano credono per un tempo praticamente quando viene la prova o la persecuzione praticamente questi si tirano indietro e rinnegano Cristo abbandonano la via della verità che avevano che avevano conosciuta ma ora torniamo quindi questa è l'importanza ecco perché vi dicevo bisogna queste cose legate alla malattia siccome la malattia è sempre presente anche in mezzo alle chiese bisogna capire bene bisogna trasmettere a ogni singolo fratello le possibili cause della malattia tutto ciò che riguarda la malattia perché quando esaminano se stessi devono sapere bene a che conclusione devono giungere perché se uno è santo gli viene una malattia non vive nel peccato è chiaro che può essere sicuramente una prova mentre altri che vivono nel peccato non è che possono dire Dio mi sta provando no tu stai vivendo nel peccato è più probabile tu sei un adulto un fornicatore un ladro stai passando sei stato colpito da quella malattia più perché sei nel peccato che perché è una prova capite quindi quando parliamo con dei fratelli che sono malati dobbiamo dire guarda la prima cosa che devi fare è esaminare te stesso per vedere se ci sono peccati nascosti per vedere se tu non hai non hai visto certi peccati dentro di te una volta fatto questo allora possiamo pensare che possa essere una prova o la malattia è venuta per la gloria di Dio per manifestarsi la gloria di Dio però dobbiamo prima passare dal fatto del peccato capite dall'esaminare se stessi per vedere se c'è qualche peccato perché se c'è qualche peccato uno può pregare per la guarigione quanto vuoi che Dio non lo guarisce ecco perché è importante anche questo se Dio manda una una malattia a una persona che tradisce la moglie con l'amante o il marito con l'amante finché non abbandona e non confesse il suo peccato non abbandona quel peccato non può chiedere di essere guarito perché perché il peccato persiste ancora quindi il Dio non può contraddirsi ti manda la malattia a cagione del peccato e poi ti guarisce non ha senso prima bisogna eliminare tutti gli elementi tutte tutte le cose che possono bloccare la guarigione solo dopo allora si provvederà a pregare per la guarigione e avere quella speranza che Dio che Dio guarisca se è sua volontà se è la volontà di Dio però bisogna fare tutti questi passaggi per poter dare una giusta convinzione una giusta speranza a colui che è malato torniamo adesso a Giobbe Giobbe è stato messo alla prova perché perché Giobbe non viveva nel peccato fu colpito dalle malattie da Satana Dio lo permise però non era cagionato dal suo peccato perché guardate l'Eterno che cosa disse di Giobbe queste sono le parole dell'Eterno nei confronti di Giobbe capitolo 1 di Giobbe versetto 8 e l'Eterno disse a Satana hai tu notato il mio servo Giobbe non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro retto tema il Dio e fugga il male vedete queste sono le parole di Dio che le parole di elogio di Dio nei confronti di Giobbe questo non vuol dire che Giobbe era perfetto attenzione aveva le sue mancanze ma essenzialmente era come Dio lo aveva descritto tema il Dio e fugga il male vedete non viveva sicuramente nel peccato peccava anche lui qualche cosa perché nessun uomo è mai perfetto in nessun giorno però non era un uomo come Dio lo ha descritto quindi quindi quello che cadde su Giobbe non era a cagione del suo peccato perché badate bene di questo lo accusarono anche i suoi amici vi ricordate che nel libro di Giobbe c'erano degli amici che parlano e si rivolgono a Giobbe e gli addebitano il fatto che la malattia gli era stata causata tutti quei mali erano caduti su di lui a cagione del suo peccato ma le cose non erano così perché Giobbe fu colpito per essere messo alla prova infatti infatti Dio siccome quelle persone parlarono a Giobbe in maniera sbagliata il Dio questo lo leggiamo all'ultimo capitolo di Giobbe capitolo 42 al versetto 7 dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe l'Eterno disse a Elifaz di Teman l'ira mia è accesa contro te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe vedete quindi attenzione quando parliamo delle cose del Signore lo dobbiamo fare avendo conoscenza certa delle cose che diciamo altrimenti l'ira di Dio l'ira di Dio è sopra chi parla in maniera errata questi tre amici accusarono Giobbe insomma di vivere nel peccato cioè loro pensavano che la malattia era causata dal peccato invece non era così quindi attenzione anche noi non dobbiamo pensare subito che quando un fratello una sorella è colpito dalla malattia sia causato dal peccato non è così non è almeno non è sempre così quindi dobbiamo tenere presente tutti gli elementi perché la malattia può cadere addosso a una persona o perché ha peccato lui o perché hanno peccato i genitori però questo dei genitori non è il caso dei credenti perché abbiamo detto che nel momento in cui si convertono tutte le maledizioni precedenti vengono perdonate e purificate quindi quindi magari se ci sono persone non credenti questo può accadere a loro può accadere che i peccati dei padri vengano ricadano ricadano sui figli quindi bisogna esaminare bene quindi se bisogna capire bisogna sapere se la malattia è causata dai propri peccati o se è una prova che Dio ha mandato oppure per la sua gloria capite quindi stiamo attenti a non esprimere subito giudizi frettolosi quando un fratello è infermo malato perché prima di esprimere un giudizio dobbiamo sapere bene qual è come stanno le cose noi non lo sappiamo e se Dio non ce lo rivela non possiamo saperlo della vita di un altro però la persona interessata sì quindi io quando parlo a una persona malata gli dico gli devo dire come giusto che sia gli devo dire guarda la prima cosa che devi fare è esaminare te stesso per vedere se ci sono dei peccati nascosti che tu non hai confessato a Dio poi se non ci sono dei peccati allora lo esortiamo ad avere costanza nella prova nella difficoltà nel dolore essere costanti a non scoraggiarsi a non abbattersi come ha fatto Giobbe perché di Giobbe è detto anche in Giacomo in Giacomo Giacomo fa riferimento alla prova di Giobbe e dice queste parole Giacomo 5 al versetto 11 ecco noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riserbata gli dal Signore perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso cioè il Dio ha colpito Giobbe quindi quando siamo messi alla prova siamo è vero nella sofferenza quando un credente è messo alla prova e magari nella sofferenza la malattia l'ha colpito lo fa soffrire però se è costante rimane fermo nella fede non addebita nulla di malfatto a Dio la fine come quella di Giobbe la fine che gli aspetta è una è una fine gloriosa perché Giobbe ebbe il doppio di quello che aveva prima della prova capite la benedizione di Dio dopo si è riversata su Giobbe Dio ha riversato la sua benedizione su Giobbe in maniera abbondante dandogli il doppio di quello che aveva all'inizio prima di essere messo alla prova questo perché dice Giacomo perché il Signore è pieno di compassione ed è misericordioso quindi nella prova quando chi attraversa la prova la sofferenza quando la sta attraversando non è bello è doloroso però quella sofferenza ti sta fortificando ti sta avvicinando sempre di più al regno dei cieli ad entrare nel regno dei cieli e alla fine quando supererai la prova e l'avrai superata avrai una grande benedizione Dio lascerà su di te una grande benedizione che era molto più grande di quella che avevi prima di iniziare a subire ad attraversare quelle prove quindi chi è diciamo messo alla prova da Dio sappia che deve avere costanza non deve scoraggiarsi deve andare avanti deve pregare perché alla fine Dio avrà una grande benedizione per te che stai attraversando una dura prova perché la sofferenza è una insegnante per noi ci aiuta ci fa capire le cose che sono vere quelle buone quelle utili in questa vita e ci fa abbandonare tutte quelle cose che non sono buone che non ci servono che che dobbiamo separare da noi e questo era il messaggio sulla correlazione tra la malattia e il peccato di cui oggi volevo parlarvi e di cui c'è bisogno di cui c'è bisogno nelle chiese di parlare in questa in questa in questa maniera a Dio sia la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amen